Sono tre chilometri di gusto, quindi di eccellenze gastronomiche, ma anche di tradizioni, di cultura, di oggetti, di artigianato e quant'altro, con un forte avanzamento del prodotto nostro locale che si contamina e si contempla bene in questi tre chilometri di mercato. Tutto pronto per la quindicesima edizione del mercato internazionale dei sapori e i visitatori. Sono pronti a fare il giro del mondo, letteralmente attraverso questi tre chilometri di sapori. 11, 12, 13 ottobre, siamo felici di festeggiare i 15 anni con una torta celebrativa che ripercorre questo bel traguardo raggiunto. È bella anche l'integrazione con i prodotti locali però, no? Sì, oltre al circuito internazionale classico e quindi il giro del mondo in 35 paesi appunto provenienti da tutto il mondo, c'è anche l'importante vetrina per i nostri produttori locali, oltre 90 attività nel circuito, si possono trovare da Ave Margaritoni a Piazza Sant'Agostino, a Piazza Saiacopo, con la collaborazione dei Coldiretti. Quindi davvero è un menù ricchissimo, anche una vetrina importante per il nostro tessuto imperditoriale. Un evento vissuto con intensità e direi anche con entusiasmo in provincia di Arezzo, ad Arezzo, quindi veramente tutte le condizioni per una tre giorni veramente all'insegna del gran gusto internazionale, ma direi anche a Retino.